Fischio d'inizio per il torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cava dei Tirreni. Domenica infatti sono iniziate le prime gare che hanno visto scendere in campo le nuove leve della categoria esordienti per il trofeo Pasqualino Lodato, in attesa della grande cerimonia di apertura e della partita inaugurale che vedrà gli allievi del Napoli e del Pescara incrociare i tacchetti domani sera al Simonetta Lamberti. Un'intera giornata, quella di domenica all'insegna del calcio giovane e pulito che ha visto protagonisti tantissimi giovani tra i 12 e i 13 anni che si sono dati battaglia, sportivamente parlando si intende, sui rettangoli di Cava dei Tirreni, il Desiderio e il Lamberti e il Parenti di Nociara Inferiore. Due tempi da 25 minuti ciascuno, 16 formazione impegnata in 8 gare e soprattutto tanto divertimento anche a dispetto dei capricci climatici. Intanto è tutto pronto per l'attesissimo appuntamento di domani sera, dopo la gara inaugurale in programma alle 19 tutte le formazioni che in questi giorni stanno prendendo parte al torneo sfileranno in una suggestiva cornice fatta di sport, spettacolo e folklore.